Ecco un programma per automatizzare il tuo telefono, Toma. Ora per creare una nuova retroma, premere su più. Fotocamera, nuova foto, abbassa in azione. Modifica, stato, inserisci testa, la foto fotocamera, avanti, fatto, fatto, salva la tua. Salva. Adesso una nuova Toma che abbiamo creato, va bene, c'è scritto una nuova. Vediamo, guarda quanto ce ne sono io. Nella Toma si possa attivare e disattivare facendo così uno swipe a destra, così la disattivata. Facendo verso la sinistra si diattiva, escerà. Vedi, facendo verso la sinistra, stop. Così la blocca e così la sblocca. Così la blocca, così la sblocca. Sì medicissima da fare. Però da Toma si possono fare tante di quelle cose. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.